Sta prendo fuoco la posada. Sono circa le 18 e 30 di domenica quando viene lanciato l'allarme sull'incendio scoppiato alla posada, uno dei locali più frequentati di Milano Marittima. Le fiamme sono scaturite dalla cucina della parte vecchia e in poco tempo hanno raggiunto il tetto, diventando subito ben visibili anche dall'esterno. Fortunatamente in quel momento nel locale non c'era la solita movita dell'aperitivo, forse anche a causa dei problemi legati al coronavirus. Dentro c'erano solo alcuni dipendenti che dopo essersi messi al sicuro hanno immediatamente chiamati soccorsi. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco con ben sei mezzi, assieme anche all'ambulanza che però è rimasta inoperosa. Il pericolo più grande riguardava la possibile presenta nel ristorante di alcune bombole del gas che avrebbero potuto esplodere, motivo per cui si è provveduto alla chiusura dell'intero tratto di strada per evitare di far avvicinare i curiosi, compito questo affidato ai carabinieri. Nel frattempo i vigili del fuoco avevano già provveduto ad attaccare l'incendio con i getti d'acqua e in poco tempo sono riusciti a circoscrivere il rogo e poi ad estinguere del tutto le fiamme. Gravi danni a tutta la parte vecchia del locale, il ristorante, la cucina e il piano superiore dove si trovano alcune camere. Tutta la struttura è stata ora dichiarata inagibile e si stanno effettuando i rilievi per determinare le cause dell'incendio.